A me pare che i padri sinodali abbiano raccolto l'invito di Papa Francesco a parlare con parresia e le loro parole sono state veramente molto franche e molto concrete, in due sensi secondo me. Prima perché hanno affrontato una serie di questioni reali senza girarci intorno, quindi la questione della migrazione, del disagio dei giovani, della cultura dello scarto, ma anche la questione degli abusi, la questione della corporeità e della sessualità, che sono tutti temi che stanno a cuore ai giovani e rispetto ai quali la Chiesa ha fatto anche una colpa sulla non capacità di accompagnamento così come i tempi e le domande dei giovani di oggi richiedono. Concretezza significa però anche integrità, è stato messo in evidenza come il giovane è un mistero, ma un mistero di complessità dove tutte le dimensioni si tengono insieme, non si può parlare di una fede astratta ma di una fede in cammino, di giovani che hanno delle esigenze di fraternità, di condivisione, di fare i conti con la propria dimensione affettiva, emotiva e corporea. E quindi concretezza significa tenere insieme tutte le dimensioni dell'essere umano e accompagnarle tutte insieme nella loro interazione e non opposizione.